Benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie d'Eccellenza, persone, imprese, successi. Oggi parleremo di moda con una ex modella e anche miss, lei si chiama Maria Carmen Martorana. Ciao e benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, benvenuta nel salottino di Teleappolo, a casa Teleappolo, ormai è diventata la casa di tutti. Grazie per avermi invitato. Ma per me è un piacere, lo sai, io ti stimo tantissimo, ormai sono anni che ci conosciamo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme. Però andiamo per gradi, no? Perché tu sei una ex modella, anche se a me non piace dire ex modella, perché chi è modella lo è per sempre, insomma. Chi è stata modella lo sarà per sempre. Però iniziamo dalle origini, dalla genesi. Maria Carmen Martorana come sognatrice, aspirante, modella e anche miss. Sì, è vero, è proprio così. Se dovessi pensare un po' al mio passato, ma a me bambina, quindi 14enne, 15enne, in effetti sono stata molto determinata. Ho sempre avuto questa sana ambizione di voler... mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo. Ovviamente ho sempre anteposto gli studi, e quindi, insomma, mi sono laureata in scienze motori all'ISF di Urbino, ma parallelamente io avevo sempre i miei concorsi, tutte le mie situazioni legate al mondo dello spettacolo. Come hai iniziato? Allora, ho cominciato con Enzo Zambetta, io vorrei anche salutarlo. Ecco, padron di tutto, perché lui, diciamo, è un po' lo scopritore di tutti, diciamo, i talenti pugliesi. Sì, io non solo, perché poi tanti talenti pugliesi hanno avuto la rivalta nazionale, grazie a lui, per citarne una Mietta, e tante a Bianca Guaccero. Sì, devo dire, io anzi lo ringrazio, perché tante volte, ora che sono dall'altra parte della barricata, anche io come, diciamo, responsabile manager di concorsi, e tante volte ci resti un po' male quando non c'è la gratitudine o non vedi che magari da parte delle modelle o di chi tu effettivamente aiuti nella carriera, poi non so, ti mettano un po' in ombra. Quindi io veramente ringrazio Enzo, perché lui è stato il mio pigmaglione. Ho cominciato con lui con i concorsi di bellezza, dando anche delle soddisfazioni nazionali, perché nell'86 arrivai seconda al concorso nazionale di Miss Ragazza Inn a Montecatini, ai tempi era presentato da Pippo Baudo. Quindi ho avuto la fortuna di essere, diciamo, anche notata da Pippo Baudo, che ovviamente mi voleva a Roma, però ero piccolina, insomma, e avevo forse 17 anni, 16-17 anni, sì. E poi, dopo, nell'88, dopo due anni, partecipai al concorso nazionale di Miss Mondo, arrivando al secondo posto. Ecco, ecco, questa è una cosa che io rimprovero sempre un po' a Enzo, perché lui contestualmente aveva Miss Italia e seguì le modelle, le Miss che andavano a Miss Italia. Quindi io, in verità, mi presentai da sola a Riva del Garda per Miss Mondo. Un po' sordina. Sì, cioè, io dico sempre, se forse avessi avuto lui con me, come protettore, come, diciamo, agente, chissà, forse quel primo posto sarei riuscita a strapparlo. Mannaggia, mannaggia. Però tante soddisfazioni, insomma, perché comunque tu sei andata avanti, non ti sei fermata, e da modella Miss sei diventata una manager. Sì. Prima di te stessa e poi di altre ragazze. Sì, perché ovviamente oltre, questo è un messaggio che a me piace lanciare anche per le ragazze e i ragazzi che mi sentono, oltre ad aver comunque dato molta importanza allo studio, perché alla fine se in questo contenitore di bellezza non c'è un cervello pensante, ecco, come fai a diventare manager di te stessa? A volte, e questo lo dico, vale in tutti i campi, che sia quello sportivo, che sia quello della bellezza. Poi c'è stato un altro momento in cui io mi sono fermata, perché essendo madre e moglie, tra l'altro anche di un'altra figura molto importante nell'ambito sportivo, perché mio marito è stato una stella dell'hockey a rotelle, è un grande campione. Quindi io, lì c'era da fare una scelta, o continuare con la mia carriera o con la sua. Ovviamente la sua era già importante e avviata e io ho fatto una scelta, quindi ho fatto la scelta d'amore. Ho avuto i due figli, quindi diciamo che per tantissimi anni io sono stata dietro alla famiglia, ma dico sempre, quando tu hai questa passione per il mondo dello spettacolo, perché anche tu me lo insegni, è quel fuocherello che non si spegne mai, è quella cena, ecco, covava sempre dentro di me. Siete che cos'è? È nel DNA, o ce l'hai o non ce l'hai, quello è il problema. Sì, covava sempre dentro di me, fino a quando poi con i ragazzi, i miei figli un po' più grandi, ecco, è come se io dicessi, ho deciso di fare seriamente questo lavoro, perché ho detto, sì, organizzavo degli eventi, ho fatto la presentatrice, ho anche fatto il Moodoo con Uccio De Santis, le prime tradizioni. Sì, 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 io ero la bionda del gruppo, quindi ecco, questo sempre come diletto, era sempre un qualcosa che è complementare alla mia vita, non era proprio un lavoro. Fino a quando nel 2006 ho deciso di fondare la mia SRL, perché io gestisco questa mia attività con una SRL, la Carmen Martorana Eventi. Devo dire che sta andando veramente bene. Sì, perché ho prima preso dei concorsi di bellezza, tra cui tra i più importanti, ecco, Miss Mondo. Poi nel 2014 ho avuto il mandato nazionale The Look of the Year. Diciamo che nella mia vita, non so se la ritengo una fortuna o una sorta di fiuto, nel senso, ho sempre capito quando era il momento forse di accantonare un progetto per abbracciarne uno ancora più importante. Ecco, nel momento in cui c'è stato, diciamo la verità, un po' il calo dei concorsi di bellezza, allora io sono passata ai master professionali per la moda. Quindi con The Look of the Year nel 2014 ho gestito questo master professionale per la moda, che è sempre un concorso, ma per modelle e modelli. Non ci sono fasce, non ci sono numeri, quindi in un certo senso abbiamo anche un po' sdoganato quel concetto della donna oggetto. E quindi ho realizzato un evento nazionale spettacolare al Castello Svevo di Trani, con ospite e madrina Maria Grazia Cucinotta, una grande donna. Perché fu veramente un grandissimo evento e giornali e televisioni comunque ne hanno parlato. Sì, tanto. E quindi, ecco, io lì mi sono messa alla prova come, diciamo, manager proprio di un contest nazionale, perché fino a qualche anno prima avevo gestito dei concorsi a livello regionale, ero la responsabile regionale. E lì poi è maturata, ecco questa scalata che io ti dicevo, con questa mia piccola ambizione, lì è maturata l'idea di dire, cioè comunque io anche nella gestione The Look of the Year, in verità ho fatto tutto da sola. Quindi ho detto perché non creare una cosa mia? Una cosa tua. Una cosa mia. E quindi ho brevettato un master professionale per la moda sempre, che si chiama Top Fashion Model e che devo dire mi sta già dando grandissime soddisfazioni. Perché è un po' in tutta Italia. Sì, ma ti dirò di più. Allora, sono partita, intanto è un marchio di impresa che io ho registrato, perché vedi, caratterialmente, io ci tengo sempre a fare molto bene le mie cose e proprio a realizzarle nella maniera più seria e qualitativamente parlando. Per dare anche una garanzia, insomma, a chi ti segue. Sì, quindi ho brevettato questo marchio. Ovviamente diciamo che alla fine funziona come un concorso di bellezza, perché nelle varie regioni poi hai le agenzie che lo gestiscono, perché poi nella grande finale che tu realizzi arrivano modelle da tutta Italia. Questo è successo l'anno scorso. A settembre dell'anno scorso abbiamo realizzato l'evento nazionale. Ovviamente, come è stato per The Look of the Year, dove un po' qualcuno mi scimmiottava, perché sembra che la moda si debba fare per forza a Milano o a Roma. Quando io invece ho detto Puglia, allora lì ecco la folle, perché la storia è fatta un po' dai folli. Tutti quanti mi dicevano, no, ma non puoi realizzare un evento moda in Puglia. Invece io ho sempre quella mia ostinazione, che alla fine mi dà ragione però, perché effettivamente non è, ovviamente logisticamente è più complicato, perché devono arrivare gli stilisti da fuori, devono arrivare le modelle da fuori. Grazie a Dio, comunque la Puglia è collegata bene. È collegata bene e poi ultimamente comunque la Puglia è la meta più ambita. Sì, ma io quello dicevo, dicevo, se la Puglia è comunque a pannaggio del cinema, e quindi è diventato un set cinematografico, magari c'è qualcuno che comincia anche con la moda e chissà. Come no? E quindi stavo dicendo, l'anno scorso, poi per The Look of the Year nel 2015 a settembre, ho realizzato il mio primo evento nazionale a Giovinazzo, perché abbiamo... Giovinazzo è la tua città. Sì, è la mia città. Perché io sono sempre alla ricerca di location particolari, non mi piace il solito palco e passerella, sono un po' allergica alle cose... Io l'ho vista, io l'ho vista perché tu hai preso, una cosa bellissima. Cioè hai trasformato la fontana di Giovinazzo in un palcoscenico fantastico. Guarda, è stato un flash notturno, perché io ero alla ricerca di un'idea vincente, perché mi piace a volte essere antesignana, essere un po', diciamo, la prima in delle situazioni che, non so, mi piace essere originale. E mi guardavo intorno, dicevo, devo trovare... Perché anche a Giovinazzo organizzo un evento bellissimo in Calaporto, dove addirittura mi montano la passerella con i tralicci in acqua. Quindi quella che per me è diventata già una quarta edizione, ed è, come dire, una location mia, con la moda sul mare, pensavo ad una location diversa e di notte, quasi sognando, ho detto, ma se io ci ho sempre giocato da bambina su questa fontana, perché non realizzare una passerella lì, sulla fontana? E il sindaco? Come l'ha presa quando si è andata a viacchierare? Allora, il sindaco impazzisce, mi stima tanto, mi adora, perché siamo coetanei, ci conosciamo da bambini, e quindi lui vede in me una donna determinata, una donna che fa seriamente il suo lavoro, ma poi che soprattutto promuove... Ecco, lui mi fa i complimenti e dice, sei una persona che porta le sue radici ovunque, cioè ovunque io vada, e non solo per me stessa, cerco sempre anche di promuovere i talenti giovinazzesi, perché se c'è ovviamente un talento che studia a certi livelli, ecco, io lo promuovo e cerco di dargli visibilità. Siamo un po' simili in questo. Sì, e ti stavo dicendo, quest'anno poi ho avuto, diciamo, top fashion model, da essere un contest nazionale, avendo interessato un'agenzia all'estero, Baleari e Canarie, e ultimamente anche la Svizzera, ecco, io a questo punto, che dire, non posso neanche più parlare di contest nazionale, internazionale, ecco perché ti dico, qui a Storie ci sono veramente eccellenze regionali, ma non posso dire più regionali, perché parliamo di nazionale e di internazionale, quindi per me veramente è un grande onore avere ogni volta queste eccellenze, perché a volte non si è profeta in patria, quindi ci conoscono più fuori che a casa nostra, e perché non far conoscere la nostra arte, il nostro talento, anche qui. No, ma anche perché, io devo dire, magari per chi mi sente parlare, questa sembra la favola della principessa che arriva, ma i sacrifici sono tanti, le difficoltà sono tante, sono un po' cambiate anche, diciamo, le normative delle amministrazioni, per cui adesso organizzare un evento non è semplice, non arrivano contributi, quindi noi dobbiamo veramente sostenerci con il supporto di privati, e non è semplice, tante volte tiri un po' le somme, io dico sempre, grazie a Dio, sono anche una brava amministratrice, e cado in piedi, uso sempre questa frase, almeno da non rimetterci, io dico sempre, ecco la stessa cosa che dico sempre, almeno non ci rimetto, almeno non ci rimetto, sì è vero, anche io penso questo. Beh, però tanti sogni realizzati, la solita domanda che io faccio durante la mia trasmissione, ma il sogno nel cassetto è che ancora lì e ogni tanto vai frughe, tra un po' o tra qualche tempo lo uscirò? Qual è? Allora, guarda, ti dico, per quanto riguarda ciò che è attinente proprio al mio lavoro, ovviamente mi metto sempre alla prova, è sempre una sfida con me stessa, e quindi il mio sogno adesso sarebbe portare in un mio evento moda, perché comunque alla fine di questo parliamo, qualche nome eccellente, quindi ecco, ci sto lavorando a questo, ma devo dire... Però già ti sei avvicinata, comunque anche con Roberto Guarducci. Sì, allora, Roberto Guarducci è il direttore artistico dei miei eventi, lui è stato vent'anni nella Maison Fendi come stilista, ultimamente sta creando una collezione proprio sua, il nostro fiorello... Cioè, lavoriamo praticamente insieme, quindi io devo dire, grazie a lui sono cresciuta tanto, proprio in qualità. Ti ho notato, ho visto, lui si fida molto di te. Sì, lui proprio, ecco, siamo veramente in simbiosi, perché ci sono delle cose che io non posso fare senza di lui, e delle cose che lui non vuole fare senza di me, tant'è che molte volte... E' carinissimo, perché lui mi dice sempre, Carme lo faccio se ci sei tu, se mi affianchi, se mi aiuti, se mi supporti, e poi mi chiede molto consiglio, su quello che magari può essere giusto, e opportuno fare per se stesso, per la sua immagine, oltre che poi affiancarmi in tutto quello che io gli propongo di fare. Quindi lui, veramente così, ad occhi chiusi, quando io dico, Roberto, dobbiamo... ovviamente anche io sono attenta a... perché faccio tantissimi eventi, io chiudo quasi un anno con 30 eventi, non propongo tutto a Roberto, perché io so quelli che devo proporre a lui, per la qualità, per chi è lui, ecco. Proprio ieri abbiamo fatto un evento veramente importante, per quanto riguarda l'alta moda, e tu sei stata, diciamo, un angelo per le modelle, e Roberto era anche lui lì. Sì, io sono molto contenta, ecco, qui apri veramente un argomento difficile per chi ascolta, ma che mi, diciamo, mi interessa molto spiegare, in che senso, tante volte si è molto gelosi, ognuno vuole stare nel suo, nel suo orticello, e difficilmente si apre agli altri. Siccome io sono una persona molto sicura di me stessa, di quello che faccio, o del mio talento, di quello che valgo, ecco, non ho problemi ad aprire sia il mio mondo a colleghi, sia a, diciamo, offrire la mia disponibilità come professionista. Infatti, quando, siccome mi è capitato di collaborare con Max Arcano, che è stato l'organizzatore di questo evento in passato, perché, ecco, molte volte lui è venuto da me come fotografo, e mi ha supportato, mi ha dato una mano, io ho fatto, ho realizzato un evento a maggio a Milano, e ho chiesto a Max di segnalarmi dei fotografi, e lui mi ha segnalato dei suoi colleghi, ecco, si crea questa collaborazione, che è importantissima, gli ho mandato delle modelle, perché lui ha realizzato degli shooting, quindi, quando Max ha messo in piedi questa, diciamo, organizzazione, tra l'altro, lui comincia adesso, io mi sono subito messa a disposizione, perché lui, in un primo momento, aveva, diciamo, subito, coinvolto Roberto Guarducci per il defilè, poi mi ha chiesto delle modelle, e quindi io ne ho inserite quattro, dopodiché gli ho detto, guarda, per il coordinamento dei filè, perché guarda, non è facile, tutto ciò che tu vedi in passerella, se non è ben gestito dietro, diventa un flop, un disastro, bravissimo, e allora, tu hai visto, perché presentavi la serata, quindi la scaletta tu, la scaletta io, tutti i tempi di uscita, di entrata, tutto perfetto, tutto perfetto, e quindi io sono contenta di questo, perché quando si creano queste sinergie, ognuno con le sue capacità, con il suo talento, senza invidie, senza gelosie, alla fine non si può che ottenere un buon prodotto, anche perché poi voglio dire, io resto Carmen Martorana e venti, lui resta Max Arcano e venti, come... lui ha creato questo evento moda, che devo dire, è stato spettacolare, poi vabbè, la scenografia di Matera, con una luna piena, il palazzo di Cicconte è stato fantastico, quindi veramente, lodi, 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 al patron ormai, lo chiamo patron Max Arcano, però continuiamo con te, perché non è finita qua, cioè tu sei in continua evoluzione, hai fatto anche un altro bellissimo evento, al Petro 6, Sì, allora prima ti dicevo, ho degli eventi, che io gestisco come Carmen Martorana eventi, con la direzione artistica di Roberto Guarducci, e parliamo di questi eventi più importanti, questi nazionali, poi c'è il nostro fiore all'occhiello, che è l'evento, la magia delle muse, di cui Roberto è stato ideatore, ed è direttore artistico, perché i suoi genitori erano soci del circolo, quindi pian piano con il presidente, gli hanno chiesto di realizzare un defilé, e ovviamente insieme abbiamo messo, abbiamo cucito questo evento, che devo dire, ecco, io ho un motto, quando anche mi presento, per parlare del mio lavoro, dico, è importante per me far bene, affinché io mi possa presentare, una seconda volta da te, questo lo dico ai manager, ai politici che incontro, e quando poi parlo della mia storia lavorativa, dico, ecco, vedete per esempio, al circolo Unione Petruzzelli di Bari, noi l'anno prossimo, realizzeremo la quarta edizione, l'evento che ti dicevo, in Calaporto a Giovinazzo, io lo realizzerò una quarta edizione, questo vuol dire che tu fai bene, che sei stimata, sei riconfermata, e il tuo lavoro cresce sempre più, quest'anno devo dire, è stato un grandissimo successo, l'evento del circolo, lo abbiamo visto, dalla gente che attendeva di entrare, abbiamo avuto anche difficoltà, io mi scuso come organizzazione, ma purtroppo la capienza di quella sala, diciamo, la sala è quella, non può avere altro, e devo dire, è stato un successo strepitoso, poi a volte anche come organizzatrice, e mi interrogo, dico, ma se io ho fatto così bene, ho avuto questo successo, che cosa mi potrò mai inventare per il prossimo anno? Un'altra cosa, però guarda, c'è sempre qualcosa in più che ti viene, perché le idee, la fantasia, la professionalità, non ha il limite, e allora abbiamo quattro minuti ancora a disposizione, cosa sogna Carmen? Allora, ho dei progetti, ovviamente mi piace parlarne sempre, sono ancora a livello embrionale, però devo dire, per me l'importante è dire, che sono progetti che coinvolgono la mia terra, la mia città, per la mia terra io intendo la Puglia, tutta, perché io realizzo eventi da Foggia a Lecce, quindi questo ci tengo a dirlo, e ho degli eventi, ho dei progetti molto ambiziosi e molto grandi per la nostra regione, quindi questo ho detto, ci sto lavorando, vedremo, oltre che poi realizzare eventi fuori, sono stata a Milano per la prima volta, devo dire con grande entusiasmo, in collaborazione con una manager svizzera, con cui si parla anche di fare eventi poi all'estero. Ma se non ero, tu hai fatto anche qualcosa su una nave? Sì, io ho fatto degli eventi anche sull'AMSC Crociere, se si può dire, anche perché è uno dei nostri partner, e anche in merito a questo ci terrei a dire che, per esempio, Top Fashion Model è un contest, che offre reali possibilità alla modella vincitrice, perché la modella non solo ha vinto una borsa di studio di 500 euro, che ha ritirato il giorno in cui è partita da giovinazzo con il titolo, ha vinto una crociera che ha realizzato, quindi sono tutte cose vere, ecco, io ci tengo tantissimo a questo, perché ci sono tutti questi concorsini, in cui si promette tanto alle misse, e poi magari poverine le senti che si lamentano, perché alla fine è stato tutto un po' effimero. Ma poi soprattutto ci tengo a dire che io mi sono spesa e adoperata tantissimo, affinché la modella la potesse inserire in ambiti nazionali. Nazionali lavorativi. Quindi, Casa Sanremo Fashion, la modella ha sfilato lì, da lì è stata notata da tecnici importantissimi del campo della moda, tant'è che c'è stato un fotografo, se posso citarlo, Gabriele Rigon, che vorrei salutare, che ha puntato la modella vincitrice, che è Megan Bruno, tanto da volerla adesso al Monte Carlo Fashion Week, quindi lei sarà lì. Poi l'ho fatta sfilare anche a Milano, ho portato delle modelle anche alla Milano Fashion Week. Ecco, la cosa bella qual è? Tante volte io qui in Puglia sento dire, eh, ma a noi arrivano le modelle da Milano. Io invece vado a Milano e porto le modelle pugliesi. Bellissimo! Cioè, capisci? Questo è veramente un grande traguardo. E allora, io, Carmen, fammi una promessa di ritornare con altri progetti. Allora, appena io concretizzo, perché adesso è inutile che lo parli di cose. Infatti, mi fai una chiamata anche perché, vedi, 25 minuti passano. Sì, sono volati. Sono volati. Sono una grande chiacchierona. No, ma sono volati tantissimo, anche perché tra immagini, quello che diciamo, eccetera, eccetera, poi è questo divano che porta bene. Sì, no, ma sei te anche, che sei una grande padrona di casa e quindi... Io ti ringrazio. E allora, io ti saluto, con la promessa che ritorni, fai un saluto ai nostri telespettatori e le nostre signore. Tu non sai quante signore ci guardano da casa e ogni volta mi dicono, ma chi avrà in studio? Ecco, questa volta vi ho portato Carmen Martorana. Allora, io vi saluto. Continuate a seguire Maria Giovanna Labruna perché è bravissima, è un'ottima padrona di casa, oltre che anche lei essere una bellissima donna. Ci incrociamo spesso, quindi una grande professionista. E poi, chissà, magari, prossimamente organizziamo qualche lezione di moda, di bonton, di portamento, di tutto. Ma sì, possiamo fare di tutto. Noi possiamo fare di tutto, veramente. Allora, grazie ancora e con voi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, sul canale 211. Ciao! 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 Grazie a tutti.